In una sfida ricca di colpi di scena, Licosia ha pareggiato 2-2 contro il Santa Domenica Vittoria nella quinta giornata del campionato di promozione. Il match disputato allo stadio Raimondi di Gangi ha visto i padroni di casa mantenere l'imbattibilità casalinga, che dura da ben 41 partite. La formazione di Mister Picone con Failla, Palestini, Vennin, Gazzana, D'Angelo, Nunez, Gonzales, Spitalerio, Svaldo de los Santos e Garriga ha iniziato con Grinta, sfiorando il vantaggio al dodicesimo minuto con Spitaleri, che ha colpito la traversa. Tuttavia sono stati gli ospiti a passare in vantaggio allo scadere del primo tempo al quarantottesimo con Rei Bagliati. Nella ripresa il Nicosia ha trovato il pareggio al cinquantesesimo grazie ad un destro dal limite di De los Santos, ma il Santa Domenica Vittoria è tornato avanti al sessantunesimo, approfittando di un errore difensivo con Rei Bagliati, che ha realizzato la sua doppietta personale. La situazione si è complicata per i padroni di casa al quarantunesimo del secondo tempo con l'espulsione di Garriga per gioco pericoloso. Nonostante l'inferiorità numerica, il Nicosia non si è reso, in un finale al Cardiopalma, il capitano Gazzana ha siglato il gol del definitivo 2-2 al nomantottesimo, regalando un punto prezioso alla sua squadra. E con questo risultato il Nicosia è al terzo posto in classifica con 9 punti, confermando l'imbattibilità stagionale. La prossima sfida vedrai Biancorossi affrontare il Santa Venita, quarto in classifica con 8 punti.